la Lube ha lottato ma non è riuscita a tenere testa alla squadra umbra. Sì una una partita che potevamo aspettare dall'inizio Perugia che dopo vittore di ieri oggi è entrata veramente carica noi abbiamo ancora fatto lo stesso errore partire un po' mosci e lasciare il primo set però è importante che abbiamo lottato fino alla fine anche nel quarto set che abbiamo iniziato male alla fine siamo riusciti di superare di superare questo questo periodo e eravamo quasi quasi vinto peccato perché è finita nella maniera dell'ultimo punto però bravi loro hanno giocato veramente bene hanno fatto la differenza con la battuta e oggi è stato così. È stato un po' un remake della gara di Champions Perugia è stata più motivata più grintosa nelle fasi decisive delle partite. Sì come ho detto prima penso che la maggior parte del gioco la maggior parte della della vittoria hanno fatto con la con la loro battuta hanno sbagliato poco hanno fatto tanti ace dall'altra parte noi abbiamo sofferto tanto anche in in ricezione poi abbiamo sbagliato tante battute alla fine abbiamo lottato eravamo quasi vicino di portare la gara in quinto set però oggi è data così è inizio inizio della 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 stagione l'abbiamo iniziato come come l'anno scorso e spero che riusciamo a superare questo periodo e andiamo avanti andiamo avanti così. Chiude il primo appuntamento della stagione davanti a un grandissimo pubblico che anche questa sera è stato molto vicino nella cucina Lube Civitanova? Sì come siamo abituati del dei stagioni stagioni scorse sempre un ambiente carico i tifosi la gente che viene a sostenerci è stato è stato anche anche oggi grazie a loro e vi aspetto anche in futuro